buongiorno a tutti allora volevo fare anzi avevo già fatto video per quanto riguardava le bollettine della settimana scorsa però mi sono accorto che questa sera c'è l'infrasettimanale tra oggi e domani sia del campionato francese che di quello inglese poi devo vedere se anche il tedesco e lo spagnolo fanno l'infrasettimanale anche loro però per ora ho visto che c'è l'inglese e il francese quindi partiamo subito col campionato francese quindi schedina e bollettina del gigione per il campionato francese tre partite oggi alle 20 e 30 21 più o meno e le altre 7 mercoledì cioè domani quindi partiamo subito con Amiens Monaco x2 Nizza Angers 1x Montpellier Lille 1x Bordeaux Saint-Etienne 1x Cannes Olympic Nîmes 1-2 Dijon e Guincamp 1x Olimpique Lione Rennes 1 Nennes Olimpique Marsiglia x2 Stade Rennes Tolosa 1 e Strasburgo Paris Saint-Germain 2 Veniamo alla schedina alternativa quindi Amiens Monaco over 1,5 Nizza Angers over 1,5 Montpellier Lille Montpellier Montpellier Lille Montpellier Lille Montpellier 1-1,5 Bordeaux Saint-Etienne confermo l'1x Ken Nîmes mi arrisco un bel gol Dijon e Guincamp mi arrisco un bel gol olympic rione ren confermo l'uno nens marsiglia x2 e lo confermo sed rens tolosa confermo l'uno e resi di strasburgo paris saint germain over due e mezzo poi se volete fare un over tre e mezzo over quattro e mezzo vostro rischio e pericolo ci può stare perché il paris saint germain è capace anche di rifilargli 4 5 pappine allo strasburgo così come può vincere una zero perché il paris saint germain non ha mezza misura vince una zero stravince però un over due e mezzo ci può stare tre gollettini potrebbero saltar fuori anche perché ho notato che danno buone chance di gol di gol anche da parte dello strasburgo il gol casa è pagato meno rispetto al gol al no gol casa veniamo dopo avervi fatto le schedine delle dieci partite con due opzioni diverse andiamo a vedere le mie bollettine che ho preparato per voi naturalmente sono sempre sei ho scelto come sempre quattro partite una di oggi e tre di domani quella di oggi inizia angers che ho scelto l'uno olimpi lione ren ho scelto l'uno stade rams tolosa ho scelto l'uno e resti stasburgo paris saint germain due e non so perché ho messo l'uno perché si vede che era messo uno a tutti ho detto metto l'uno ma è due comunque con cinque euro se ne possono vincere 39 virgola 33 opzione quella per pararsi ditta angers 1x olimpi lione ren 1x stade rams tolosa lascio l'uno resti in strasburgo paris saint germain metto il due con cinque euro se ne vincono 15 e 69 comunque è un bel prendere le chance ci sono tutte terza bollettina nizza angers 1x più over 1 e mezzo stade olimpi lione ren 1x più over 1 e mezzo stade rams tolosa 1 più over e resti in paris saint germain 2 più over con cinque euro non se ne possono vincere 42 virgola 08 poi vedete voi se l'over su resti in paris saint germain 2 più over volete magari mettere l'is 2 e anziché fare un over 1 e mezzo fatto un over 2 e mezzo così come opzione in più magari avete la chance in più dell'is 2 anche se secondo me è sprecato perché il paris saint germain fa un campionato per i fatti suoi come me anche la juventus in italia però se magari uno non è tanto convinto può mettere l'x 2 più over 2 e mezzo così alza la quota da una parte che si abbassa dall'altra sta più o meno in pari e prendete più o meno la stessa cifra quarta bollettina nizza angers gol ospite olimpi lione ren gol ospite stade ren stolosa gol ospite e naturalmente interesse in strasburgo paris saint germain gol casa con cinque euro se ne vincono 26 virgola 81 terza bollettina abbastanza libididosa nizza angers gol più over allora per questa opzione qui ho notato che la differenza è minima tra il gol over e l'under e l'under più over anzi il no gol più over quindi vedete voi se preferite fare no gol più over più under scusate o gol più over quindi no gol più under vuol dire under 2 e mezzo gol più over vuol dire gol più over 2 e mezzo c'è una differenza minima a favore del no gol più over olympic lione ren è favorito il gol più over stade ren stolosa il gol più over è pagato una volta in più quindi per dire 2 e 65 rispetto a 1 e 65 per intenderci del no gol più under però anche lì vedete voi poi resti in paris saint germain il gol più over è pagato il giusto ed è favorito quindi vedete un attimino voi se preferite fare in due no gol più over e negli altri gol più over o se no rischiarla così perché comunque così con 5 euro ne vincete 145 ultima opzione ma questa è proprio per i coraggiosissimi che si vogliono lanciare il tricombo quindi nizza angers 1 più gol più over olympic lione ren 1 più gol più over stade ren stolosa 1 più gol più over e resti strasburgo paris saint germain 2 più gol più over con una schedina così se dovesse uscire cosa improbabile però se uno la vuol provare magari anziché 5 euro ne gioca 2 con 5 euro se ne vincono 872 se ne giochi 2 vai a vincere poco più di 270 euro più o meno euro più euro meno perché se fosse stato 900 con 2 euro ne vincevate 300 circa più o meno circa quasi quindi sono 8 e 72 verrà fuori 280 euro 275 euro sono sempre soldi e ne spendete solo due perché mi raccomando sempre moderazione detto questo vi saluto vi ringrazio mi appresto a fare il campionato inglese purtroppo c'è l'infrasettimanale non pensavo anche oggi c'è da fare il tour de force ciao